Non so a che numero di presenze con la partita di domani ho raggiunto a Catania. Non so essere esatto nel numero delle panchine che ho fatto al Catania, però le posso dire che a me mi ha emozionato ogni partita in cui mi sono seduto sulla panchina del Catania. Quindi poi il fatto che domani sia l'esordio sicuramente qualcosina in più, ma io quando ho avuto la fortuna di fare l'allenatore di questa squadra è sempre stata un'emozione sedermi in quella panchina, in ogni partita. Domani è una partita a parte, l'ho già detto anche ai calciatori, ovviamente sarò chiamato a dare i primi 11 che scenderanno in campo, ma ovviamente le mie scelte saranno condizionate soprattutto da un punto di vista poco da quello che ho visto questa settimana, ma più che altro da quello che è stato fino ad oggi. Poi è chiaro qualcosa di mio, cercherò di mettere, però ripeto, i giorni non sono stati tantissimi.